Ma è vero quello che stiamo vivendo, è scherzi a parte, perché io poi non riesco a comprendere, sai, non riesco a capire se è possibile avere un'opinione, se è possibile aprire un dibattito, se è possibile che magari la parola terrorismo vale per gli uni e per gli altri, se è possibile che la parola libertà abbia ancora un senso. Io non lo so, ecco, ripeto, ecco perché dirigere un giornale oggi per me sarebbe un po' un problema per il fatto che, e che ne sai se domani mattina scrivi una cosa che non fa piacere a qualcuno e te levano la carta dalle rotative, hai capito? No? Guarda, io sto vedendo le reazioni, cioè io ho scritto un paio di articoli su questa storia, entrambi per dire che forse è meglio se abbassiamo sta storia del tifo e ci limitiamo a discutere e a far sentire tutte le posizioni. Io ho invitato anche i partiti centrodestra con Ovadi a avere un altro atteggiamento, tra l'altro io conosco Monio Ovadi e sono contento di conoscerlo e penso che sia un grandissimo artista, anche se ci dividono oceani nelle nostre posizioni, penso che sia una cretinata, una schifezza, fagli pressioni perché vada via. Anche oggi ho letto l'intervista di Zacchi e mi ha fatto girare le balle notevolmente, lo dico in francese, dopodiché... Perché è ritrattato, no? Un po', è ritrattato un po'. Sì, un po' ritrattato, poi dice delle banalità che io proprio non... C'è una storia, guarda, posso dire mi sta sulle balle, ok? Lo dico, mi sta sulle balle. Ma posso dirti che ti condivido, ti condivido perché il personaggio se l'ha capito fin dall'inizio. Visto che ormai siamo alla bocciofila, la dico come la direi alla bocciofila. Detto questo, per quanto mi stia sullo stomaco, fagli cancellare la presentazione di un libro, fare del casino riguardo a questo è stupido, è ignorante, non va bene. Detto questo, è anche vero che poi certi... ci sono martiri e martiri, perché certi martiri, per modo di dire, lui trova altre tribune, altri nei mesi e negli anni passati, insomma... Ma ne troverà ancora, dai, dai, francese, ne troverà ancora perché è una persona che fa comodo. Però non si rendono conto queste persone di essere dei poli da batteria anche loro, perché... c'è anche lo stesso fatto che tu sei costretto a ritrattare, a fare questa figura di fronte alle persone di buon senso, perché poi, chiaro, lì i calcolatori, gli ingegneri sociali sanno perfettamente, fai questo perché il 62,3% delle persone, se fai questo, ti approverà. Dice, sì, ho capito, ma sto facendo una cosa orrenda. Dice, te frega, lascia stare, tu fallo perché vedrai che avrai successo. Oggi tutto si basa su tutte... E quindi, però, ovviamente, questo tipo di atteggiamento, questo tipo di imposizione, questo tipo di istruzioni possono essere dati solo ad alcune persone particolarmente prive, no, di senso del pudore personale, del... No, vediamo in televisione, no, ho visto delle... Cioè, io... Ci sono degli ex colleghi che io conoscevo da 40 anni, senza fare nomi, perché se cominciamo dall'alfabeto con la A, me ne viene subito uno gigante, ecco, che quando eravamo più giovani pensavamo al futuro della radio, no, facciamo tutti i conduttori, facciamo... Andavamo sulle montagne a montare i trasmettitori, no, facciamo tutte queste cose, ci incontravamo, eccetera, eccetera, perché vedevamo un mondo migliore nel futuro che dovevamo fare, eccetera. Poi, sembra sentire la canzone di Gino Paoli, i quattro amici al bar, non c'è più nessuno. Tutti a fare la pubblicità, capito, con le manine così, quell'altro colà, dico, porca puttana, ma non te lo ricordi 40 anni fa? Eravamo lì al bar a discutere, no, a fare le radio, le cose. Eh, vabbè, insomma. Eh, non lo so, Francesco, ci vuole anche un po' di dignità, io credo, no? Cioè, qui invece ritrattano, rifanno, ridicono quel... Ma tutti ritrattano, dai, non facciamo le cose. Ritrattano tutti, dopo aver detto una cosa che non era giusto dire. Ma se l'hai detta significa... Ma dai, ritrattano tutti, ritrattano tutti, però. Non è adesso Zacchi. Zacchi, perché ha una storia sua... Ti sto dicendo che eravamo quattro amici al bar. Non ti è simpatico per altri motivi, dai. Ti sto dicendo che eravamo quattro amici al bar, non c'è più nessuno. Ritrattare una cosa della quale tu hai parlato perché ne eri convinto, a meno che non sia una cosa talmente palese, perché dici, sai, il dubbio è di tutti, dobbiamo avere anche la capacità di poter rivedere le posizioni. Ma questo tu la rivedi il giorno dopo perché ti hanno massacrato, ti hanno bocciato tutti gli inviti. Ebbè, comunque, di questo parleremo. Sì, però dico, lo fanno tutti. Lo fanno tutti, è per quello che io mi lamento, Francesco. Quando Marcello De Angelis ha fatto la sua affermazione riguardo alla strage di Bologna, ma poi che hai fatto? Ma lascia stare, ma quello è un reato penale, ma che vuol dire? Dire una cosa non è un reato penale. Chiunque può dire quello che vuole, non c'è nessun reato. Dipende se tu diffami qualcuno, però. Non ha diffamato nessuno. Vi dirò solo una cosa che vi devo salutare. Ha espresso una sua opinione. Dico una cosa che poi vi devo salutare. Io non sono d'accordo neanche con me stesso delle volte, no? Coltivo del ritratto, soprattutto quello che io dico poi ritratto, anche su me stesso, su tutto, no? Però ho delle certezze, però ho anche tanti dubbi e tante posizioni sfumate. Cerco di essere, di mantenere la lucidità. A me questo utilizzo dell'emotività che si sta facendo da anni a questa parte, veramente non lo digerisco. Allora, questa storiella delle magliette, degli standard, proiettiamo tutte le bandierine che vogliamo, poi alla fine le bandierine ne facciamo l'uso dell'ombrello di Altan, capito? Perché poi la storia, il mondo, le cose si muovono in maniera diversa. Quindi cancellare le voci, allinearsi, fare, anche ritrattare, è tanta fatica per niente, guarda. Perché anche quelli che ritrattano, che si mettono sul carrettino del vincitore, poi non gliene intorno in tasca niente, perché dalla loro opinione al grande pensiero prevalente non gliene frega nulla, fanno solo la figura dei servetti. Quindi, sinceramente, io continuo ad andare avanti sentendo una cosa e l'altra. Per cui, cari ragazzi, se a qualcuno non piace, se ne farà una ragione. È un problema suo, no? Io mi coltivo le mie opinioni, mi coltivo i miei dubbi, mi coltivo anche la mia equidistanza delle volte. e mi permetto di farlo, credo che faccia parte anche del nostro mestiere.